Chiara è un personaggio molto particolare e mi sono innamorata subito di lei quando ho letto la sceneggiatura perché è come se lei avessi vissuto tutta la sua vita facendo delle cose perché la gente si aspetta che lei sia così e quindi che lei si comporti in un determinato modo, che lei instauri determinati tipi di rapporto e in realtà lei non è così, quindi a un certo punto ci sarà un grandissimo cambiamento in questo personaggio che in qualche modo rivela un suo carattere reale, cioè la prima volta che Chiara fa delle scelte sue che sono sue e di nessun altro. Poter dare appunto una parte di luce e una parte di ombra è stato secondo me il fatto che c'è il fattore principale che fa capire quanto sia complessa questa età che è questo passaggio difficilissimo tra l'adolescenza e l'età adulta.